Sequestro di persona. Matteo Salvini andrà alla sbarra con questa accusa per avere impedito la libertà di movimento a 163 migranti trattenuti in parte fino a 19 giorni. Menmano la metà è sbarcata. A bordo della nave della ONG Open Arms. Se quindi impedire la libertà di movimento configura il reato di sequestro di persona. Dovremmo immaginare che dal 21 agosto in poi quei 163 una volta sbarcati abbiano riconquistato la libertà. Diciamo 161. Perché due siriani furono subito pizzicati e arrestati dalle forze di polizia perché identificati come scafisti. Liberi dunque, ma che. Tutti prigionieri. Impediti di ogni movimento. E non per soli 19 giorni. Sequestrati in gran parte dal successore di Salvini. L'attuale ministro dell'interno. Luciana Lamorgese. Per ben più di tre mesi. La prova viene da una lettera inviata dall'unità Dublino del ministero dell'interno il 15 novembre 2019. Appunto a quasi tre mesi dallo sbarco definitivo di tutti gli occupanti della Open Arms. All'avvocatessa Loredana Leo. Che aveva fatto un accesso agli atti come rappresentante dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. L'avvocatessa chiede che fine avessero fatto quei 163. Cosa che aveva fatto anche a fine ottobre ottenendo una risposta non esaustiva. In questa nuova missiva spiega che solo 15 di loro sono stati trattenuti nell'hotspot di Lampedusa per soli sei giorni senza libertà di movimento. Per poi imbarcarli verso la Spagnas li avrebbe accolti. Due sono restati. Sequestrati. Nell'hotspot prima di Lampedusa e poi di Pozzallo per 37 giorni prima di partire per il Lussemburgo. E altri 34 prigionieri negli stessi luoghi per 55 giorni prima di partire per la Francia. Davvero liberi solo 27. Per un semplice fatto. Durante il trasferimento da Lampedusa a Pozzallo via Porto Empedocle sono riusciti a darsela a gambe facendo perdere le loro tracce e rendendosi così irreperibili. Ancora. 5 partiranno per il Portogallo il 20 novembre successivo dopo un sequestro durato quindi 91 giorni. E 31 avranno destinazione Germania il successivo 30 novembre dopo 101 giorni di sequestro. Una settantina da Pozzallo invece a questa data vengono trasferiti presso il cara Santa Anna di Crotone. Dove non avranno alcuna libertà di movimento e quindi sulla carta resteranno sequestrati fino a quando non si sarebbe trovata una destinazione possibile o non fosse avviata la procedura di rimpatrio. Perché uno solo dei 163 della Open Arms aveva le caratteristiche per essere accolto come profugo ed era entrato, in procedura nazionale.